Bella ragazzi, benvenuti, siamo su Minecraft, sul server WayneGamersFail della mafia e delle droghe per andare a vendere tutta questa ben di Dio che ho in inventario e per fare anche altre cose, no? Intanto vedete che ho 104 livelli, voglio fare una missione, diciamo, no? Facoltativa per noi. Vorrei provare ad arrivare a mille livelli, mi ci vorrà una vita, devo cercare di non morire mai e soprattutto adesso voglio cercare, davvero mi voglio impegnare tanto, coltivare, coltivare, continuare a vendere voglio arrivare a un sacco di soldi, voglio provare a diventare uno dei più ricchi del server il che non sarà assolutamente facile, ma ci posso provare. Il mio obiettivo è quello di arrivare a 100 milioni di VGF euro. Vediamo un pochino quanti ne ho adesso, ne ho 155 mila, perché ho speso un po' per fare questa roba. Da quello che abbiamo nell'inventario ne faremo esattamente 360 mila, quindi dovremo arrivare sopra i 500 mila, quindi già dovrei recuperare quello che ho speso. Però comunque a casa, se andiamo alla F home, possiamo vedere che qua abbiamo altri 3, 6, 9, 12, 18, 210 mila ne abbiamo altri, più le angurie che andremo a vendere, poi amplieremo ancora di più la farm, faremo tante belle cose insieme. Ma partire ai ragazzi con andare qui e trasformare tutta questa roba... Ops, un attimo di lag, scusate. Ok. Voilà. Tutto. Abbottiamo questa roba. Fortunatamente ho trovato il miner che era appena stato riattivato, così sono riuscito a pigliare tutto il carbone che mi serviva. Ora però sono a secco. Voilà. La parte più noiosa è dover craftare tutta sta roba, poi una volta che è craftata, cioè... Devo pensare che ogni secondo che passa sono 10.000 in più, quindi, cioè, fare 10.000 al secondo non è male, eh? Ragazzi, ieri sera abbiamo fatto una live molto corta, perché poi ero occupato purtroppo, ma state tranquilli che anche la prossima settimana usciranno, perché ho la fortuna che la scuola è iniziata, ma è iniziata abbastanza leggera per me, come immagino per tutti. Ma per me particolarmente è dato che dovevo fare da casa, perché a noi mancano un sacco di professori, come a tutti, praticamente, e quindi facciamo solo due ore al giorno. Perciò ho veramente tanto tempo e non ci hanno dato ancora compiti, ed è passata presente la prima settimana, no? E non ci hanno ancora dato i compiti. Il che mi rende felice, ovviamente, cioè, in realtà li hanno dati, però ci hanno diviso in due gruppi, no? E quindi hanno dato, tipo, all'altro gruppo dei compiti, perché avevano la prof che noi abbiamo normalmente di matematica, mentre noi avevamo un altro prof che non ci ha dato compiti, e lui ci ha detto che noi dobbiamo fare quello che ci dà lui, perciò, meglio così. Comunque, non parliamo di scuola, ma parliamo di farci un bel po' di soldini, guardate qua. Allora, boom, ma guarda qui, quante roba! Ci facciamo tanto qui, eh? Poi, ovviamente, le angurie le devo vendere per fare i punti, per esempio, per vedere un pochino. Slash pime, ah, no, 4700 quasi, invece, balance, 515.000. Perfetto. Ehm, allora, slash home, riprenderei la mia roba da questa bella cassa, il mio cibo l'avevo messo qui. Prenderei anche il mio solito bastoncino, ehm, ok, qua per fortuna ho un paio di diamanti, ho dato sbagliato malamente, però non uso altri perché non voglio scendere sotto i 100. Adesso, guardate la mia, cioè com'è potente la mia ascia, perché ha efficienza 5 e fortuna 2. E quindi è un'ascia veramente, veramente molto buona per raccogliere i meloni. Ovviamente questa, ricordo, è una farm molto piccola, verrà ampliata al più presto. Quest'opera intanto nascono, più o meno, ne sono nati in metà, tutti di qua, poi non capisco perché. Invece dall'altra parte crescano più lenti. Potrei tranquillamente prendere un po' di bombilla e farli crescere tutti insieme. Però non ne ho molta voglia adesso. Già. Ah, è vero, slash, intanto, ehm, daily, e devo prendermi la chiave, no? La daily key. È tipo due giorni che non la prendo e sbaglio a non prenderla. Io le devo prendere e me le voglio accumulare, no? Per poi magari fare uno spacchettamento. Tutte le chiavi che trovo da adesso le metterò nella mia enderchest, che siano chiave la VGF key, la legendary key, perché posso trovare anche quella lì, quando magari sarò VIP. o comunque anche le daily key che comunque danno un ottimo, ottimo bottino. Io penso che diamo un ottimo bottino. Le accumuliamo, per esempio, di daily key, con questa qui ne abbiamo già quattro. Ma poi avendo due account di Minecraft con cui accedo al server, posso tranquillamente accumularne di più. E vorrei fare magari che quando arriviamo a 50 iscritti, in uno speciale, facciamo anche lo spacchettamento gigante di tutte le chiavi. Quindi mi cercherò di fare almeno, beh, da qui a 50 iscritti, tranquillamente posso farmi anche uno stack intero di daily key, perché sicuramente non prima di un mese si raggiungeranno i 50 iscritti. Quindi tranquillamente uno stack ci posso arrivare. Cosa possiamo fare? Di bello, ragazzi. Non mi sono preparato tantissimo. Quindi non lo so. Andiamo a vedere al Lucky Block se troviamo qualche roba di buono. Che è sta schifezza? Spada non la voglio, lapis non li voglio, biscotti neanche, neanche il carbone è questo, non schifo. Piuttosto forse mi hai dato dei soldi, giusto? Quanto mi hai dato? 2614. Sto qui che butta le ore per terra non le voglio raccogliere, grazie. Cosa possiamo fare? Possiamo provare a commerciare con qualcuno? Vediamo un po' chi c'è online. No, 77 persone. Proviamo con SWOT 10. Ciao, vediamo un po'. Perché mando un messaggio e lagga? Ho scritto ciao e mi si felizza il gioco. Dai, cavolo. Gentilmente, gioco, non frizzare. Gliel'ho scritto, vero? Sì, ciao. Chi sei? Sono Andon VGF. Chi sono? Che cosa qui? Naruto Acido. Si vede che è Acido, è già uno che ti scrivele. Non ti ho mai visto. E conosciuto. E quindi, magari, possiamo conoscerci ora. E quindi, magari, possiamo conoscerci ora, non credi? Intanto, andiamo all'armeria mentre spettiamo questo che ci risponde. Velocissimo. Ancora, chi sei? Porco dietro. Sono uno che commercia. Oh, minerali. Oh, minerali. Slash F Ali. Slash F Ali. Eh, si va a fare un bagno, dai. Ma porco dito. Come cazzo si chiama, sto scemo? Swat, perché cazzo porco... Ti va di comprare qualcosa. Non laggare, Dio. Marafan. Vendo molto, molti minerali. Ma perché cazzo... Ma va, quant'è? Guarda, ci siamo fatti un po' di roba. Vorrei sapere perché sto brutto. Vabbè. Allora proviamo con qualcun altro. Ci fosse una femmina? Emi07 YouTube. Subito. Ciao. Eh, è un sensei. Non so se sia maschio. Nulla perché non sappiamo se... Che cavolo c'è in trassi sono sotto attacco? Sennò c'è robine. Da poter... Dai, cavolo. Volevo fare un video veloce. Ah, ok. No, l'ho scritto io. Dai, volevo trovare qualcuno veloce. Dai, che sennò il video poi dura troppo. Giova. Vogliamo vedere un po'. Proviamo con Miriam WGF. Ciao. E' un capo cosca, quindi è più basso di Medigrado. E credo sia femmina. Dal nome. Riproviamo. Porco il dito. Ciao. Allora, questa è che non risponde. Vediamo un po'. Boh. Vabbè, oh, non abbiamo fatto nulla in questo video, dai. Volevo fare qualcosa commerciando un pochino con qualcuno, ma... Sono tutti... Sono tutti che non rispondono e quindi andatevene a quel paese, dai. Su. Vediamo un po' se magari, giusto prima di chiudere il video, se alle fogne vendono qualcosa di interessante. Sì. Gli spawner non li vende più nessuno. Slash spawn... Multiplicatori, no. Purtroppo non si... Nessuno... Cioè, non esistono gli spawner di Creeper in questo server. E qui non mi pare che qualcuno venda spawner. Adesso sono messi tutti a vendere la polvere da sparo. Bu. Non so. Qui nessuno vende roba interessante, eh. Aspetta, eh. Slash v di... Ciao. Slash v... Com'è che si chiama questo qui? Ciao. Ciao. Le compro io. Le scrivo. Vendile a me. Ti do 250k. Divendo anche 50k l'una, ma va a fare un bagno, va. Scemo. Non sai quanto valgono. Non valgono così tanto. Stupido. Vabbè. L'abbè. Togliamo con confi. Slash v confi. Ciao. Ciao, te la do io, lo so che non si fai così, te la do io, forse sì, non lo so, non mi ricordo, sono stupido. Alle fogne, mi ha chiesto dove sono, alle fogne, guarda, gliene do addirittura due sta. Alla prossima. Viper, 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 viper. Ma sai come si scrive in privato? Vediamo un pochino cosa dice, il video durerà un pochino tanto ma vabbè. Cosa c'è scritto? Ah mi ha dato dei soldi ma non volevo soldi, infatti glieli li do. Ok, allora... Ma hai un canale YouTube? Chiediamogli così magari facciamo collaborazioni. Così a caso. Ma hai un canale YouTube? Quindi rispondi dai! Rispondi? Per favore. Che poi non scrivendo in privato non riesco a vedere bene i suoi messaggi. Grazie, sei molto generoso. Vlesherre? Prego. Hai un canale YouTube? Vediamo un po' se risponde, eh. Poi ci salutiamo, ragazzi. No. Ok. Io sì... di dare un'occhiata e mai iscriverti. Si chiama... Si chiama... Come vuoi. Sono quello con 35 iscritti. E sto registrando ora. Perciò sei in un video. Per avere informazioni vieni su Insta. Un gamer come voi. Ha scritto qualcos'altro? Ciao, fan di H&R. Eh, eh. Eh, aspetta, ma... Ma sei maschio? Giusto? E mi? Emanuele? Non lo so. Sei maschio o femmina? Ok, ok. Ok, ok. Allora, se vuoi, ci sentiamo su Insta. Ora... Ora chiudo il video. Allora, ragazzi, dai. Per questo episodio di... del server di Lion è tutto. E a me non resta che dire. In compagnia di magari un futuro iscritto. Cioè di EMI07 YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ma... ecco. Ero... Ero... Oh... Grazie a tutti.